Ciao ragazzi, ti senti solo, hai bisogno di compagnia, è il dimenticabile, vi mostriamo alcuni video che abbiamo fatto quest'estate, molto caliente Come prendere la palla in spiaggia, come chiamare la palla ragazzi, ho fatto prendere un infarto a una ragazza però dai, è andata bene, c'è stata E questi qua saranno dei nuovi video che metteremo qualche volta molto corti, quindi commentate qua sotto se vi piacciono Saranno di pochi secondi, tipo 20 secondi, cosa fai? Parla, parla, saranno tipo 20 secondi Come sempre likeate, commentate e come sempre, vi ricordo Come sempre likeate, commentate e più commenti ci sono, sceglieremo la persona giusta e faremo un bel salutone, ciao Ciao ragazzi Adesso vi faccio vedere come si chiede palla Ma guarda questo, io lavorare, lui, lui, gioca la palla Lunedì sono dentro, martedì sono dentro, mercoledì sono dentro, giovedì sono dentro, venerdì Grazie